Anche l'istituto comprensivo Pietro Giannone di Ischitella ha celebrato la ventesima giornata europea delle lingue, organizzata congiuntamente dalla Commissione europea e dal Consiglio d'Europa. Questo evento, di grande rilevanza perché celebrato in tutti i 27 paesi europei, pone come importanza l'apprendimento delle lingue europee, rendendo migliore il plurilinguismo e la comprensione interculturale. È l'occasione per riflettere sugli apprendimenti e sulle iniziative promosse, per sostenere la conoscenza e l'uso di più lingue, come pure quello di fare il punto sulle proprie lingue, sulla loro vitalità e diffusione.